A questo punto manca solo l'ufficialità, Massimiliano Pignoli approderà prossimamente, nei prossimi giorni, al gruppo Udc assieme a Riccardo Padovano, è così? E non solo direi, ci sono anche altri contatti, il partito dell'Udc ci ha chiamato, siamo stati a Roma, abbiamo aperto un dialogo, non è ancora sicuro nulla, per sabato 18 faremo una grande convention dove probabilmente si annunceranno delle novità, novità che potranno essere anche di non adesione all'interno dell'Udc, stiamo ragionando ancora su alcune questioni, l'unica verità è che il sabato prossimo vedrete quanta gente riempirà la sala del Consiglio Comunale, quanta gente è vicino al consigliere Pignoli e al consigliere Padovano. Consigliere Pignoli, il consigliere Padovano che a questo punto passano dall'altra parte, nella centrodestra? Io sono all'opposizione, lo ero formalmente da cinque anni a questa parte pur sedendo nei banchi della maggioranza, tant'è vero che l'ultimo bilancio non l'ho votato, non ho partecipato agli ultimi consigli comunali, sono stato molto critico e sempre critico nei confronti di questa maggioranza che ha detto di fare qualcosa e poi in realtà ha fatto altro. Riguardo ad esempio la cura delle periferie, l'impegno dell'assessore delle politiche sociali, voglio ricordare a tutti voi che una delle azioni mirate per quanto riguarda le politiche sociali le ha fatte sottoscritti insieme al collega Teodoro e riguarda praticamente il progetto Mi Impegno per Pescara. Non è venuta mai una proposta dall'assessore delle politiche sociali quando oggi come oggi io ritengo che le politiche sociali siano veramente l'assessorato più importante vista la crisi che stiamo vivendo oggi in Italia. Come si è lasciato con Gianni Teodoro, con Pier Nicolai Teodoro? In ottimissimi rapporti, sono signori della politica, hanno capito la mia difficoltà, ricordate che sei anni fa io ho ricevuto un esposto e per un semplice esposto io sono stato messo all'angolino e nonostante sia stato il terzo più votato in consiglio comunale non sono stato neanche premiato da questo sindaco. Hanno accolto le mie recriminazioni e ci siamo lasciati da buoni amici perché poi da signori nella vita ci si rincontra sempre. Grazie. Grazie. Grazie.